Siamo arrivati alla settima mossa, quindi a quella che è la fase operativa, ciak si gira io dico. A questo punto sappiamo dove andare, sappiamo chi sono i nostri potenziali clienti, ci siamo fatti belli e dobbiamo cominciare a vendere. Non dimentichiamo le telefonate che hanno un ottimo rapporto costi benefici, usiamo le mail bene che vuol dire non fare mail interminabili, quindi se abbiamo identificato i nostri punti di forza puntiamo su quelli e soprattutto puntiamo su quelli che possono essere i vantaggi per i miei clienti. Io non devo fare un elenco di quelli che sono le cose che io so fare bene, ma un elenco di quelli che sono i vantaggi che il potenziale partner straniero può trarre dall'acquisto del mio prodotto, che è una prospettiva diversa. Le fiere, diciamo che le fiere sono lo strumento che di solito le piccole imprese utilizzano di più quando vanno a vendere all'estero, quindi dobbiamo preventivamente contattare quelli che possono essere i miei potenziali clienti, agenti e distributori e cercare di attrarli presso il nostro stand. Non ha più nessun valore andare alla fiera senza aver fatto questa attività, nella speranza che qualcuno passi per il corridoio e si innamori del nostro prodotto o del nostro brand. Pensiamo solo a fiere importanti come il Vinitaly o il Salone del Mobile, sono fiere alle quali partecipano 4.600 espositori, un buyer straniero che viene a queste fiere può vedere al massimo 10-12 aziende, un buyer che si ferma 3-4 giorni fate voi il conto di quante aziende può vedere. Quindi è pura illusione quella di poter contattare nuovi clienti essendo presenti alle fiere. Bisogna fare un'attività per portare i clienti presso il nostro stand e poi c'è l'attività successiva una volta che si torna a casa. Molto spesso le aziende al massimo mandano una mail d'invito, dopodiché i biglietti da visita raccolti di tutti quanti i contatti che abbiamo visto in fiera vengono sepolti sotto le carte della nostra scrivania. Invece qui comincia l'attività commerciale vera e propria che è un'attività lunga nella quale non bisogna scoraggiarsi e bisogna continuare a battere il chiodo.